Questa iniziativa è importante per due ragioni, una per far conoscere ai milanesi e anche tutti i visitatori che Milano non è solo città della moda, ma anche una città immersa in un grande patrimonio agricolo d'Europa, 47.000 ettari di parco agricoli più 24 zone protette. Questa iniziativa è anche volta a, assieme all'Expo, portare i visitatori non soltanto a Milano ma in tutta la Lombardia. Questo deve essere il tentacolo di tutta la Lombardia per i visitatori.